Una bella pentola sul fuoco con un delizioso sugo di pomodoro e a un certo punto saltano fuori dal sugo due lunghi, simpatici, affascinanti, appetitosi spaghetti e allora... si mettono a ballare un rock sfrenato con una musica beat Ballano, gli spaghetti Beh, al signor Donesto è piaciuto Allora piace anche a me Insomma, non vuoi neanche sapere cosa ti ho portato? Grazie Tutto qui, grazie Non lo apri nemmeno? No, perché quando lo apro mi salta in faccia un serpente Hai indovinato Che strazio tu e i tuoi scherzetti Non c'è una volta che non mi fai qualche scherzazzo Allora, hai deciso quale film puoi vedere? Attacco dal pianeta sconosciuto No, no, Tracy Un'altra di quelle storie di fantascienza Ma dicono tutti che è un film meraviglioso Oh, vero che puoi lavoro Hai detto la stessa cosa anche l'ultima volta E cosa abbiamo visto? Una pianta che in un attimo si trasformava in un uomo E Tracy Ma ci hanno spiegato come succedeva Perché venivano da un altro pianeta Cioè erano i loro spiriti Quali spiriti? Io non ho visto nessuno spirito Certo, perché gli spiriti non si vedono Tracy Tracy, per una volta almeno Non potremmo vedere un bel film normale Con Lorenzo Livio O Walter Matao O Tracy Guarda, sono disposto a vedere anche un film su un cane Senti, il fatto che gli spiriti non si possano vedere Non vuol dire che non esistano È un po' come la faccenda di credere in Dio Certe volte bisogna credere anche in cose Che non riusciamo a vedere Ok Ora devo chiamare Joe Faccio questo Vivete ancora insieme? Sì Però non è bella come mamma Forse no, ma ha altre qualità, altre tanto importanti Quelle poppe enormi Oh, avanti Tracy, non dire queste stupidaggine Mamma dice sempre che ha delle poppe enormi Chissà come saranno le mie quando sarò grande Vado a telefonare Incontriamoci nell'atrio Dio Dico a te, Tracy Dio Un tavolo per tre questa sera alle sette D'accordo, signor Jones Vieni Tracy